Partiamo della stazione spaziale per qualche momento. La stazione è fatta con diversi materiali. Kevlar, oro, vetro o similari. Penso policarbonati, vetro, metallo, altre cose. Kevlar, materiale... Ci guarderemo dentro e forse andremo su e giù qui, ma ecco qui il mio punto. Quello che ci raccontano sull'orbita bassa dove si trova la ISS, dove plana attorno sotto la luce diretta del Sole, si ha un'energia radiante del Sole che colpisce la ISS. Non c'è atmosfera, è quell'altezza che ripara la ISS. Pertanto non c'è niente che permetta alla ISS di trasferire il calore, dissipare quel calore. E non c'è nulla attorno per raffreddarlo. Pertanto tutto quello che può fare è radiare il calore da sola. Quindi cosa succede? Succede che alle cose che sono nello spazio, come ci hanno detto, che si scaldano ad alte temperature quando si trovano alla luce del Sole e quando non sono sotto la luce del Sole, le cose sono veramente fredde nello spazio. Qui nella Terra abbiamo l'atmosfera attorno a noi. Pertanto quando il Sole riscalda l'aria richiede tanto tempo per quest'aria, per raffreddarsi nuovamente durante... infatti durante la notte si rinfresca. Ma non abbastanza, non c'è abbastanza aria, non c'è abbastanza energia nelle molecole e nelle particelle nell'aria che continuano ad agitarsi a causa dell'energia del calore fino al mattino successivo dove c'è ancora la luce del Sole che le fa agitare ancora di più e le fa diventare più calde ed anche, se le vediamo raffreddarsi, non andranno a meno di 170 gradi Celsius, a meno 338 gradi Fahrenheit, come si potrebbe vedere per esempio sulla Luna quando è nella parte oscura, per il fatto che non c'è atmosfera attorno per proteggerla dal freddo o permetterla di dissipare facilmente il calore all'interno di un ambiente attorno più fresco quando fa veramente caldo, può veramente scaldarsi ad una temperatura elevata quando si trova nella parte del giorno e della Terra e può raggiungere una temperatura veramente gelida quando si trova nella parte notturna della Terra, molto più freddo di quello che possiamo sentire qui sulla superficie per il motivo che abbiamo tutte queste particelle d'aria attorno a noi che si scaldano col Sole del giorno e tutte queste particelle si muovono attorno con tutta l'energia che hanno acquisito dal Sole col calore e diminuiscono durante la notte ed è questo il motivo per cui la notte è più fresca ma in realtà non diventano super fredde perché è rimasto ancora un po' di movimento dell'energia e del calore. L'ISS è una storia completamente differente. Perché è rilevante? Perché i differenti materiali hanno differenti temperature di fusione, differenti temperature di congelamento. Come sappiamo i metalli si espandano molto facilmente, molto velocemente appena aumenta il livello di temperatura. Non riuscite a togliere il tappo a vite dalla vostra bottiglia di vino. Dovete metterla sotto l'acqua calda così il metallo del tappo si espande e potete aprirla facilmente. È quello che facciamo usualmente nelle nostre vite e conosciamo questo concetto che se un metallo che usiamo come tappo lo mettiamo sotto l'acqua calda inizia ad espandersi. Così il metallo della ISS quando si trova sotto la luce diretta ed assorbe le radiazioni del calore dovrebbe iniziare ad espandersi. Tuttavia i differenti componenti della ISS si dovrebbero espandere in modi diversi. Questo è irrilevante se per esempio pensiamo facciamo che ho tagliato il mio video ma è perché la mia videocamera l'ho lasciata surriscaldare e poi l'ho chiusa e per poi ripartire. Ecco perché ho tanti tagli dei miei video ci sono altri motivi ma questo è uno di essi quindi dove eravamo? Ah sì, i materiali differenti i pannelli solari questi pannelli solari dell'ISS hanno dei metalli nell'involucro esterno e danno materiali nei pannelli all'esterno, al centro quindi quello che dovrebbe accadere se l'ISS è veramente nello spazio nell'orbita bassa il metallo attorno al pannello solare quando è sotto la luce in pieno giorno bene, questo metallo si dovrebbe espandere e lo stesso pannello solare che è costruito con materiali differenti non dovrebbe espandersi così velocemente e non dovrebbe espandersi molto pertanto se l'involucro esterno si espande ed il pannello interno i giunti dovrebbero cadere dovrebbero cadere o si deformerebbero dipende da come è costruito il telaio anche quelli si dovrebbero espandere se sono attaccati saldamente lungo la nervatura e se sono ben ancorati in base all'espansione saranno sempre vincolati alla parte interna ed inizieranno a torcersi se non sono ben uniti dalla parte interna o anche se fossero uniti negli angoli o in altri modi ci si aspetta che si estendano in fuori ed il pannello solare semplicemente precipiterebbe nello spazio in tutti i casi questa intelaiatura dovrebbe spostarsi flettersi sempre più quando diventa rovente con i raggi solari lo stesso pannello solare dovrebbe spezzarsi o cadere o frantumarsi se non distruggesi ed una volta che girano nella parte buia per il motivo che non c'è un'atmosfera che permette alla temperatura di cambiare gradualmente quello che succede è che l'ISS va da 170 gradi celsius a circa meno 270 gradi celsius in un attimo così o così così in pochissimo tempo passa da rovente da caldo di fusione ad una temperatura molto gelida bollente e freddo molti metalli sono fragili quando diventano gelidi l'acciaio diventa fragile ho bevuto molto vino sì sono sono veramente stressata perché avrei voluto fare meno di questi tagli di modifica in questo video e per qualche ragione mi sono stressata ma normalmente sono in grado di parlare più a lungo ma oggi ho tutti questi problemi ho tutti questi problemi anch'io divento molto calda ma mi piace essere un po' strana ma andrò a sistemare questo allora dove eravamo sì l'acciaio l'acciaio può essere fragile quando gela pertanto se si ha qualsiasi vite di acciaio o qualsiasi componente in qualsiasi parte dell'ISS succede che diventa veramente gelido e fragile quando si trova nella parte notturna e quando arriva nuovamente nella parte del giorno il calore sarà immediato e visto che questo metallo passa dal gelo ad una doccia di calore radiante beh questo che cosa dovrebbe fare si dovrebbe affrantumare quando i metalli cedono sapete che ogni blocco di metallo ha miriadi di microscopici vuoti all'interno e questi vuoti microscopici effettivamente hanno un ruolo cruciale nelle rotture quando un metallo viene messo in tensione o caricato questi vuoti iniziano a crescere ed unirsi insieme fino al punto di rottura del metallo non è possibile che si possa riscaldare gradualmente e passare da uno stato di fragilità ad una espansione si dovrebbe affrantumare nello stesso tempo in cui se tirate fuori dal forno un piatto in pirex se lo immergete nel lavandino pieno di acqua fredda fa giusto un'esplosione ed è giusto quello che mi è successo l'altro giorno e sarà la stessa cosa un'esplosione con tutti i pezzetti in giro pertanto questo semplicemente non ha senso e se guardate le informazioni della ISS nella loro pagina web si vedono le immagini e si vedono che ci sono differenti componenti fili, parti metalliche, rivestimenti in Kevlar i rivestimenti in Kevlar non rivestono tutte le parti metalliche tutti i differenti componenti pertanto l'idea che in qualche modo c'è di proteggere qualcosa dal calore e dal freddo questo non ha senso perché ovviamente non coprono tutte le parti quindi qualsiasi parte non coperta si dovrebbe espandere velocemente se di metallo e tutte le plastiche o cose simili probabilmente dovrebbero iniziare a sciogliersi mentre tutto il metallo dovrebbe espandersi e se è collegato ad una parte che è coperta dalla protezione termica questi componenti non possono espandersi e non... insomma valvole con ingranaggi e congegni si dovrebbero staccare e non è... non ha alcun senso veramente se vi sedete pensate un momento logicamente a questa macchina nello spazio non è semplicemente una cosa non logica dopo aver detto questo ho trovato interessante che la NASA ha messo tutte queste informazioni della ISS sulla sua pagina web ho guardato il percorso della ISS gli stati le distanze che copre la velocità questa è un'altra cosa ma la ragione un'altra ragione per cui il Kevlar come uno scudo su di essa dicono oh mio Dio che è stato testato con proiettili ad alta velocità per essere certi che possa essere sicura contro gli impatti di meteoriti prima di tutto il proiettile viaggia molto 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 piano programato alle meteoriti nello spazio ma secondo quello che ci hanno detto sullo spazio sulle meteoriti e tutto quello che ci dicono tutto sullo spazio su spazio.com tutto sull'intera industria che gira intorno allo spazio quello che ci dicono come le cose viaggiano nello spazio e delle velocità di queste cose nello spazio l'idea che qualche cosa che possa proteggervi da un proiettile ad alta velocità che sia in grado di proteggervi da un meteorite è ridicola non può non posso credere che la scienza induca la gente a credere questo posso pensare che non avete mai pensato veramente a questo è qualcosa che viene raccontato che si accetta mentre la scienza lo fa per le persone che leggono sul web e si informano su queste informazioni come fate a non rigettarle non le trovate ridicole oltretutto sono in effetti stupide e allora ho fatto alcuni calcoli su questo una stima approssimativa sulla velocità con cui una meteorite che arriva dall'alto dove ci hanno detto che può essere di 40 cm di diametro almeno almeno larga da 1 a 40 cm un pezzo di meteorite cade nell'atmosfera ogni giorno questo significa che in orbita attorno alla Terra arrivano verso la Terra questi pezzi larghi 40 cm virgolette inevitabilmente vanno a colpire la ISS e questo è il motivo per cui hanno messo questo scudo di Kevlar sulla ISS eccetto che non hanno messo questi scudi di Kevlar sui pannelli solari e non l'hanno messo dappertutto sulla ISS e non l'hanno messo sui finestrini della ISS perché l'avrebbero bloccato la vista ora se ho fatto ho fatto dei calcoli per vedere quanto la pressione per pollice potrebbe espandersi da un meteorite che colpisce il finestrino della ISS ed ho inserito questo da qualche parte qui è ridicolo non è non è non è realistico e non si possono non si possono avere i finestrini intatti se ogni singolo giorno ci sono queste meteorite che lo colpiscono e questa potenza questa pressione per pollice quadrato spero di avervi aiutato a pensare all'idea sul concetto che forse che forse l'ISS non gira veramente attorno sopra le nostre teste nello spazio comunque se ancora siete saldati a questa idea allora beh allora ho un altro argomento per voi perché da quanto rilevate sul web la distanza che la ISS copre non combacia con la grandezza della Terra infatti la ISS ed i dati che ci forniscono in termine alla velocità con cui viaggia e di della traiettoria del percorso sembra suggerire che la Terra sia veramente un 195 miglia più grande di quello che è se il mondo è un globo la ISS è qualcosa che viaggia attorno a questo globo ma il globo della ISS a cui gira attorno è circa 195 miglia più ampio del globo su cui pensate di vivere e se la Terra non è un globo la Terra di cui non conosciamo molto è 195 miglia più larga rispetto alla Terra che conoscete e lo trovo interessante questo e come sono arrivata a questo andiamo a vedere i miei calcoli quindi la velocità è di 17500 miglia orarie ed il circolo attorno al globo ogni 90 minuti questo è molto interessante se la ISS circola il globo ogni 90 minuti come ci dicono e da quanto hanno detto è facile non lo so sono 16 albe tramonti ogni giorno quindi andiamo da un calore estremo ad un gelo estremo ogni 90 minuti espansioni e contrazioni ogni 90 minuti se si hanno tutti questi differenti componenti fatti di tutti questi differenti materiali che si espandono e si contraggono con differenti velocità ogni 90 minuti l'idea usate tutti questi differenti dati mettetevi dentro i vostri calcoli ed uscirete con la circonferenza del cerchio attorno al quale vola la ISS e quando tenete conto dell'altezza che ci hanno detto che vola la ISS 240 miglia sopra la terra c'è un divario di 195 miglia quindi vi lascio con questo e cercate un senso voi stessi l'altezza Grazie a tutti Grazie a tutti